Sicuro, bello ed inclusivo. Lo possiamo riassumere così il nuovo parco Rivera a Rosciano che da oggi ospiterà tutti i bambini, le famiglie del quartiere e non solo. È stata inaugurata sabato scorso la nuova area giochi di Via Antonioni. Al taglio del nastro, oltre all'amministrazione comunale, hanno partecipato diversi residenti, ma soprattutto tanti bambini che per l'occasione si sono divertiti anche con le diverse attività organizzate dal CSI di Fano e dal laboratorio del Centro Gas Gas. Cinque le nuove installazioni dedicate tutte a loro. Inauguriamo sicuramente un parco inclusivo, inclusivo significa un parco per tutti. Appunto, come vedete alle mie spalle, ci sono cinque giochi completamente giocabili da bambini, sia normodotati che diversamente abili, quindi con disabilità, perché proprio vogliamo garantire a tutti la stessa abilità, la stessa possibilità. Questi luoghi nascono per favorire il senso di comunità e questo senso di comunità naturalmente ci aiuta a far sì che tutti insieme possiamo essere accolti in luoghi che devono generare benessere. Sono state installate all'interno di questo parco cinque strutture. Una è una giostra con appunto cinque seggiolini, sia per bambini, diciamo col seggiolino tradizionale che col seggiolino per agganciare il bambino che ha disabilità. Ci sarà una giostrina appunto dove c'è la seduta per entrambi e quindi c'è un ingresso sia per la carrozzina che la seduta normale. C'è una struttura polivalente alle mie spalle, quasi a casina con lo scivolo, anche quella è completamente accessibile da tutti, un gioco sensoriale e un'altalena cestello. Inoltre sono stati installati anche nuovi arredi come panchine e tavoli con sedute, anche queste con un occhio di riguardo alle persone con carrozzina. A questo si aggiunge anche un nuovo impianto di illuminazione a led, cestini e delle fontanelle d'acqua. Costo dell'intera opera 80.000 euro. Questo investimento l'abbiamo iniziato lo scorso anno con il parco inclusivo a Carrara, oggi a Rosciano, presto realizzeremo anche Fano 2. Il senso vuole essere proprio di andare a dare una bella risposta anche sui quartieri e non necessariamente solo sulla città. Fin da subito i giochi sono stati presi di mira dai bambini, contenti per la realizzazione di questo spazio dedicato tutto a loro. Durante la giornata le famiglie del quartiere, le diverse attività del posto e le associazioni hanno contribuito ad una merenda offerta a tutti i presenti. A Rosciano abbiamo questi nuovi giochi avuti dall'amministrazione, l'anno scorso la pista polivalente e quanto un'amministrazione collabora con le associazioni il fatto dimostra che le cose vengono e vengono fatte bene.